Ciao ragazzi e benvenuti nel corso fotografia digitale con smartphone, sono Gabriele, vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta delle possibilità che il nostro smartphone può offrirci nel campo fotografico. Infatti gli smartphone sono device in continua evoluzione, molto pratici, leggeri e le loro fotocamere ci danno anche dei buoni risultati. Il corso prevederà una parte iniziale teorica dove tratteremo le basi della fotografia, poi passeremo alla parte pratica, quindi come attivare la modalità pro o manuale degli smartphone, faremo un sacco di esempi, spiegheremo la differenza anche tra file jpeg e file raw e poi passeremo alla post produzione dei nostri file con l'app Snapseed di Google. Spero che questo corso risulterà il più chiaro possibile e vi faccia venire voglia di scattare le vostre foto in modalità manuale. Posso garantirvi che una volta visti i risultati non tornerete indietro. Iniziamo!